Amici della Salute Ollus, sbarca nel Palermitano. Ieri l'inaugurazione a trappeto di uno sportello assistenziale informativo. I locali sono stati messi a disposizione proprio presso la sede centrale del comune trappetese. L'intervista. Faremo sapere di questa ottima iniziativa che questa associazione darà ai nostri concittadini. Ci sarà questo sportello aperto tutti i mercoledì dalle 15 alle 18. Soffriranno di tanti servizi tra cui questo di essere accompagnati nei vari ospedali per poter fare la loro terapia e poter combattere questa battaglia a cui auguriamo sempre di vincere. Volevo ringraziare il sindaco Cosentino e la sua amministrazione. Sarà gestito da una nostra volontaria. Un aiuto a chi ha bisogno perché come sappiamo queste persone entrano in un tunnel buio che non c'è via di uscita. In quel tunnel buio io voglio che vedano la luce perché come tu sai Riccardo queste persone hanno anche bisogno di un aiuto economico. E siccome la malattia già è pesante per loro avere quel sostegno del trasporto e risparmiare quei soldi per andarsi a curare, per salvarsi la vita è necessario. E quindi per questo io sto cercando di dare più aiuto possibile dove posso in tutti i comuni della provincia di Trapano e Palermo perché c'è bisogno di aiuto. Faccio parte di questa associazione da poco tempo e sono felice di aiutare in questo modo. Saremo ben lieti di poter essere utili. Loro con una, noi con cento mani assolutamente. Cercheremo di dare forza in questo modo. Si potrà usufruire di questo servizio di trasporto direttamente da trappeto nelle varie destinazioni dove bisogna fare la terapia. Significa tanto perché è un piccolo centro, una piccola comunità che ha bisogno anche di assistenza, ha bisogno di uno sportello informativo soprattutto dedicato a questi malati, ai pazienti oncologici. Devo ringraziare l'associazione Amici della Salute che ha voluto fortemente questo sportello nel nostro comune. Abbiamo sicuramente apprezzato e condiviso il progetto. Non potevamo che condividere e accogliere appunto questa iniziativa. Cercheremo di supportarli dove possiamo, grazie a lei, grazie a coloro che praticamente partecipano volontariamente e con tanti sacrifici appunto a dare questi servizi. Speriamo che ci siano pochi pazienti a utilizzarlo, però nello stesso tempo quei pochi pazienti lo utilizzeranno ben volentieri, anche perché una famiglia veramente che ha queste difficoltà vuole soltanto supporto. Grazie. Grazie.